le cose non sono andate molto bene lasciatevelo dire a paragone della mia vita la vostra è una valle di rose letto letto di rose valle di lagri quello che è quello che voglio dire è che avete davanti un uomo rovinato un uomo distrutto dal capriccio del destino a voi è andata fin troppo bene credete a me ralph si lanciò poi in una particolareggiata descrizione degli orrori della scuola militare a ora sospirò e si domandò se fosse l'aria satura di fumo oppure l'alcol ad annebbiare la vista infine siccome il suo compagno non accennava minimamente a mettere fine a suo monologo cominciò a domandarsi perché le cose non stessero andando come lui aveva sperato haward era venuto lì al bar nell'intento di ubriacarsi ben bene e confidare tutti i suoi guai al barista non era cosa che gli facesse abitualmente quella anzi non l'aveva mai fatto l'idea gli era venuta per aver visto un film a ora tarda la tv ma da tre settimane era ossessionato da sogni che erano beh del tutto in contrasto con la sua natura e ora quei sogni cupi e violenti avevano preso ad assarirlo anche a livello cosciente haward cominciava ad esserne veramente atterrito e aveva deciso che fosse meglio parlarne con qualcuno e al più presto ma il barista evidentemente non aveva visto gli stessi film alla tv era molto più giovane di quanto haward si sarebbe aspettato un ragazzotto dall'aria imbronciata che riusciva ottimamente a trasmettere la sua inespressa convinzione che i suoi clienti fossero poco più attraenti ai suoi occhi dei bidoni dell'immondizia haward aveva fatto diverse volte il tentativo di attaccare discorso ma come lui si era schiarito la gola l'altro l'aveva zittito con una occhiataccia poi ralph sullo sgabello accanto al suo gli aveva battuto sulla spalla dicendo con aria pensosa la vita a volte può essere un vero inferno era un tipo pallido e denutrito con cerchi neri sotto gli occhi proprio il genere di individuo aveva pensato con disgusto haward che jessica trova sempre così irresistibile ma ralph si era presentato con molta cortesia ed aveva insistito per offrire ad haward un secondo martini e poi aveva cominciato a parlare haward si era sempre attenuto alle regole in vita sua si era subito fatto l'idea che se fosse stato ad ascoltare ralph alla fine ralph gli avrebbe ricambiato il favore sarebbe stato ad ascoltare lui ma ralph stava ancora parlando e non la finiva più di raccontare quant'era infelice e come per lui non vi fosse alcuna via d'uscita sebbene howard avesse fatto diversi tentativi di pilotare la conversazione dalla propria parte l'altro l'aveva interrotto ogni volta improvvisamente ralph lasciò a mezzo un lamento per domandare siete sposato sposato sì sono sposato anzi jessica mia moglie è soprattutto vostra moglie vostra moglie figuriamoci vostra moglie qualsiasi altra cosa sia una donna unica solitaria credete di avere dei problemi voi tutto quello che vi ho detto finora non era che una prefazione ecco qua guardate questo si spostò sullo sgabello un po' goffamente ed estressi un portafoglio dalla tasca posteriore lo aprì fece un movimento rapido con il polso e una serie di fotografie rivestite di plastica precipitò quasi fino a terra howard rimase a fissarle stupefatto erano tutte fotografie di giovani donne e ognuna di loro è morta steccata stecchita corresse distrattamente howard stava cercando di ricordare un altro film che aveva visto un film in cui un maniaco omicida si era tenuto nel portafoglio le foto di tutte le sue vittime questa è millicent è cominciato tutto da lei howard prese in mano con fare esitante e guardò la foto spiegazzata di una giovane donna incredibilmente disordinata e sciatta dall'espressione estremamente vacua avrete notato i capelli scarmigliati gli orecchini strani millicent apparteneva a quella sottoclasse di esseri umani chiamati hippies vi ricordate gli hippies erano ero studente di legge all'epoca era già troppo tardi ormai chissà forse se l'avessi conosciuta prima le cose sarebbero andate diversamente volete dire prima che diventassero hippie ralpha evidentemente non aveva sentito quando ci conoscemo io ero già talmente amareggiato talmente vendicativo vi ho detto che infanzia infelice è stata la mia credo di sì ma del resto anche la mia sapete per esempio quando avevo cinque anni credo che vi ci voglio un altro martini ne avrete bisogno non è una storia allegra quella che sto per raccontarvi aspettò che il barista avesse servito la bibita di howard poi riprese sono stato privo d'amore per quasi tutta la vita questo dovete tenerlo ben presente per tutto il tempo delle superiori e del college le ragazze non facevano che ignorarmi ricordo che rimanevo incantato a guardarle pensando a tutto l'amore la sicurezza e la conversazione intelligente che avrei potuto offrire a quel preferivano tutti i giocatori di pallacanestro quelli che facevano parte della squadra di atletica leggera atletica leggera capite doveva entrare anch'io a farne parte poi cominciai a osservarle a pensare quanto mi sarebbe piaciuto ripagarle della stessa moneta ma non ci riusci fu a questo punto che conobbi millicent facevo il secondo anno di legge lei non era per quanto potessi sforzare la fantasia la ragazza dei miei sogni anzi c'era addirittura chi la definiva una racchia da far spavento ma mi amava diceva che le nostre anime avevano vettori congruenti e vatte la pesca che cosa voleva dire forse voleva dire che era una cosa commovente in un certo senso per due mesi mi seguì dappertutto un po' come io un tempo seguivo le ragazze che facevano il tifo durante i campionati universitari ma io mi facevo beffe direi ralph si chiuse nel silenzio howard si rese conto che doveva sbrigarsi a parlare se non voleva perdere quell'occasione mentre il suo cervello anneviato dai martini tentava di stabilire esattamente come bisognava procedere jessica ricordo che la seguivo per tutto il ralph alzò una mano e howard tacque obbedendo a male in cuore non l'avrei mai fatto se non fossi stato così pieno di rancore ma guardavo la faccetta smonta e bruttina di millicent e pensavo guardatela io ralph breithwaite faccio realmente soffrire qualcuno posso veramente riuscirci mi sentivo molto orgoglioso di me stesso posso ben capirlo ci sono momenti in cui io si uccise howard rimase a bocca aperta lasciò un biglietto era un disastro come ortografia ed era scritto in uno stranissimo inchiostro marrone alla luce delle circostanze che seguirono mi sono soffermato spesso a meditare sull'origine di quell'inchiostro ad ogni modo lei scriveva ad avere delle amicizie amicizie potenti che sapevano come ripagare gli individui come me aveva mandato loro il mio nome e il mio indirizzo una banda di motociclisti streghe streghe mi hanno fatto una fattura mi hanno scagliato una maledizione particolarmente crudele e senza nemmeno spiegarmi di che cosa si trattava si limitarono a spedirmi un telegramma dicendo ad aver evocato un paio di demoni che alla fine avrei compreso inutile dirlo mi guardai bene dal prendere quella gente sul serio lo credo bene una cosa talmente ridicola ma l'ho pagata e l'hanno pagata loro loro l'hanno pagata in che senso sono morte ve l'ho già detto no le streghe no 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 le ragazze le donne le altre io pure mostrato le fotografie no ma voi non prestate attenzione ma sì invece quelle streghe di cui dicevate se ne andavano in giro ad assassinare tutte le vostre ragazze neanche per sogno lo dicevo io che non eravate stato attento ascoltate bene ve lo spiegherò ancora una volta la verità è che finora non vi siete spiegato affatto dopo che millicent si tolse di mezzo la mia vita cambiò pensavo che se una donna mi aveva amato al punto di uccidersi per me in me doveva esserci molto più di quello che io pensavo questo fece miracoli per la mia fiducia in me stesso trovai il coraggio di attaccare discorso con le ragazze loro mi rispondevano mi innamorai di quale delle tante di tutte e come pensate che abbia capito in che cosa consisteva quella maledizione a quanto vorrei che steste un poco attento non è facile per me parlare di queste cose vuotò il suo bicchiere poi vuotò quello di howard qualsiasi donna di cui io mi innamoro ha soltanto tre settimane da vivere non posso spiegarmi in modo più chiaro di così cosa la morte si portò via n debbie e rin emi caroline michelle georgia mary e tre susana prima che io me ne rendessi conto morte tutte dieci undici quello che a volte va a finire che le tre susana le confondo l'essenziale è che sono morte tutte incidenti d'auto crolli di ponti cadute di massi infarto delle coronarie avete mai sentito di una diciannovenne morta per infarto cardiaco quelle poverine sono morte perché io le amavo sono un mostro ralph cominciò a tirar su con il naso howard imbarazzato non sapeva da che parte guardare e ciascuna di esse mi amava come mi amavano detto mi amavano davvero ciascuna di loro pensate la piccola enni era arrivata al punto di howard cercò di astrarsi doveva riflettere c'era qualcosa qualcosa che stava cercando di affiorare attraverso i martini e fare contatto con il suo cervello era 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 jessica jessica che lo aveva allegramente informato d'averlo sposato unicamente per il suo denaro jessica che aveva giurato di rendergli l'esistenza anche più infelice se mai si fosse azzardato a tentare di ottenere il divorzio jessica la cui corte di ammiratori gli affollava il soggiorno gli rendeva insonni le notti jessica che aveva riso così amabilmente quando lui l'aveva avvisata che stava per metterla alla prova jessica che aveva detto di non poter fare a meno di innamorarsi di tutti quei cari meravigliosi uomini stava dicendo ralph e poi c'era il ring che mi diceva di non avere mai conosciuto nessuno silenzio howard con gesto trionfante batte il bicchiere sul bancone del bar tacetevi dico la voce di ralph tacque ma le labbra continuarono a muoversi come se avessero accumulato troppa velocità e continuassero così per forza d'inerzia ralph intanto fissava howard stupito howard era in un certo senso sorpreso lui stesso ma non si lasciò sfuggire quel vantaggio tre settimane avete detto ralph va sentì senza parole howard si astenne molto prudentemente dal mostrarsi troppo ansioso e ciascuna di quelle donne si era innamorata di voi vero ralph continuava ad assentire come se avesse una molla nella testa bene poi disse ralph vecchio mio in realtà quello che è successo è semplice tu hai avuto un periodo di terribile sfortuna e per questo ti sei lasciato andare non esistono streghe capito non esiste nessuna maledizione devi smetterla di dire a te stesso che c'è che ci sono quello che ti serve è qualcosa per distogliere la mente dai tuoi guai che dirò io quello che ci vuole cosa rilassati statene in compagnia di gente normale tanto per cambiare e piantala di pensare di essere un mostro perché non viene a casa con me viene a cena no questo poi no sarebbe di troppo disturbo ma quale disturbo niente affatto jessica sarebbe felice che tu venissi da noi dici davvero se la fortuna mi assiste come dici niente niente soltanto che devi venire con me howard si alzò e cominciò a tirare ralph per un braccio fidati di me succederà un miracolo ralph sollevò la testa si alzò malfermo fissò speranzoso howard credi davvero che funzionerà vale la pena di tentare howard sorrideva ma non a ralph abbiamo trasmesso non è una storia allegra di cinzia dannell vi hanno preso parte gino lana claudio paracchinetto franco vaccaro tecnico del suono dario chiapino assistente alla regia enrico lantelme regia di dante reiteri programma realizzato dal centro di produzione di torino della rai grazie a tutti